Dramma settimo torinese dove un uomo di 53 anni disoccupato si è suicidato lanciandosi dal balcone del suo appartamento al quarto piano di via Vercelli, angolo via Ferrari, dove viveva con l'anziano padre. I vicini e passanti hanno chiamato i soccorsi. L'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco dove è morto subito dopo il suo arrivo. Da qualche tempo soffriva di depressione.